Un proverbio molto noto, saggio come i vecchi detti e brutto come un rimorso, recita del senno di poi. Eppure, di fronte alla tragedia della famiglia che si è vista rubare due figli dalle onde, non c'è proverbio che tenga e non serve nemmeno la risposta dello scrittore, secondo il quale le verità ovvie sono i figli inutili del senno di poi. Utile invece, almeno a noi che restiamo e a chi ha il compito di vigilare, è continuare a mettere in guardia contro i rischi del mare. Qui in Adriatico, dove c'è la presenza di questo tipo di scogliere frangiflutti, è facile essere ingannati da uno stato del mare che può sembrare in qualche modo tranquillo, addirittura che il moto ondoso spinga a terra e poi invece tra le scogliere si creano le cosiddette buche d'acqua dove invece c'è una corrente che all'opposto ti porta all'esterno. Sulle spiagge libere è previsto che mediamente a cura dei comuni venga garantito un servizio di salvamento, questo è quello che prevede l'ordinanza balneare. Laddove i comuni per motivi vari non riescano a garantire il servizio, va apposta una cartellonistica che mette in guardia i bagnanti dal pericolo derivante al fatto che non c'è il servizio di salvamento. Nelle spiagge invece in concessione normalmente il pericolo viene segnalato con la bandiera rossa issata su un pennone. A meno che non vi siano accordi con il comune per una ripartizione di tutta l'arenile, quindi un servizio che viene assicurato in forma associata si dice, e non è il caso di Ortona. Proviamo ad utilizzare il cosiddetto radiomare in caso di giornate tipo quella di ieri con un forte evento che credo fosse maestrale, ma me lo insegna lei, a sottolineare con la voce, oltre che con la bandiera che a volte neanche si guarda, soprattutto il giorno di Ferragosto, quanto sia pericoloso allontanarsi, quanto sembri la situazione sotto controllo e poi invece si viene portati a largo anziché arriva. Sicuramente può avere un impatto maggiore della visibilità della bandiera rossa che viene guardata e non viene guardata. La fonica potrebbe avere il vantaggio di passare anche sulle spiagge libere e quindi laddove non c'è la bandiera rossa comunque contribuire a dare questo segnale. Però il cartello ci dovrebbe essere? Sì, sì. È probabile che neanche i cartelli, seppur ci fossero stati, sarebbero serviti a salvare la vita dei due ragazzini cinesi. A farlo invece ci hanno provato gli uomini, in particolare ci ha provato Guido Bagnino dello stabilimento Il Cambusiere, uno di quelli finiti nelle polemiche per la questione del fratino e per le richieste di concessioni aggiuntive nella stessa area. Io in realtà dovevo guardare solo i miei 150 metri, però per coscienza devo andare pure nelle spiagge libere. Però purtroppo come faccio a guardare un chilometro, due chilometri di spiagge libera? Pure se siamo in quattro bagnini non ce la facciamo. Come si fa a riconoscere un vento pericoloso da un vento buono? Guardando la risacca, ci sono le onde, praticamente là già l'acqua è alta, no? Con la risacca la sabbia se ne va e quindi diventa profonda. Pure da un ragazzo che entra in acqua un attimo, dopo cinque secondi già si trova da un'altra parte, è pericolosissimo. Poi dipende pure dal vento, come era, c'era pure vento forte. Era brutto ieri, era stata una brutta giornata di mare. Tra l'altro mi dicevi che ieri avevate, oltre ai tre bagnini stanziali, diciamo anche un aggiuntivo di ronda, proprio perché era Ferragosto. Grazie alla ronda che sono intervenuto. Ho chiamato una grande mano a chiamare la guardia costiera perché se stavo da solo non potevo chiamare la guardia costiera perché stavo in acqua a cercare i bambini. Ti fanno soltanto fronteggiare ulteriori difficoltà a quelle già oggettive che comunque uno può avere per affrontare la stagione. Perché il servizio di salvataggio comunque deve essere garantito, ci deve stare. C'è un altro fatto da non trascurare, che la spiaggia non ci è stata permessa di pulirla, sempre per il discorso del fratino. Ma qua, oltre a non esserci né nidi né dune, c'è soltanto parecchia sporcizia. E quindi siamo veramente fortemente amareggiati. Abbiamo fatto tutte le contestazioni del caso, tutti i ricorsi. Per quello che so io ad oggi e che delle risposte le avremo a metà settembre, quindi a stagione conclusa.